E' stato presentato il bilancio 2023 per la banca Alta Toscana, chiuso con un utile netto di 18 milioni di euro, con un 43% di utile. Grazie alla politica intrapresa, Banca Alta Toscana, che opera nelle province di Pistoia, Prata e Firenze, ha confermato il proprio ruolo di banca di rilievo nel territorio, supportando famiglie ed imprese, i quasi 11.000 soci e gli oltre 50.000 clienti. Da un punto di vista nostro, dei soci, è stato molto positivo per quello che siamo riusciti a fare per la nostra comunità. C'è stato l'intervento per le famiglie e le imprese colpite dall'alluvione nel nostro territorio, che è stato veramente molto efficace. E' avvenuto in tempi brevissimi, appena abbiamo saputo di questa necessità. La banca e la muto hanno ricomprato l'idrovora, è stata subito messa a disposizione, speriamo che non ce ne sia mai bisogno, ma è a disposizione di tutta la comunità. Ultimamente abbiamo provveduto a Maresca acquistare i mobili in una RSA. Ha risultato eccellente, se vogliamo citare i numeri, l'utile raggiunge quota 18 milioni, in un contesto di equilibrio degli indici economici, finanziari e patrimoniali molto rassicurante. Quello che ci fa piacere è che ci siamo mossi a livello operativo nello stile della banca di credito cooperativo, nell'interesse della persona, dell'individuo. Quindi, come spesso mi accade di dire, noi lavoriamo per l'innovazione ma nel solco della tradizione. Il risparmio che raccogliamo viene reinvestito tutto nella nostra comunità. Siamo un volano importante per l'economia delle nostre zone. Avendo anche un bilancio positivo, avendo l'appoggio dei soci, direi che è stato un anno molto positivo.